malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene almeno chi ha ruoli di guida morale del paese chi non guarda solo ai bilanci ma guarda anche alle anime la smetta di credere alle favole del paese spendacione e alzi la propria voce il popolo ha sofferto abbastanza il bilancio statale primario accumulato in un quarto di secolo dal 1995 al 2019 ammonta circa 762 miliardi di euro per l'italia contro i 627 miliardi di euro cumulati per la germania quindi noi abbiamo fatto 140 miliardi in più tutti gli altri paesi hanno fatto risultati molto più modesti e molti paesi che ci criticano hanno fatto deficit primario e non surplus come noi o margini ben inferiori ai nostri la si smetta allora di invocare politiche di rigore perché questo vuol dire surplus di bilancio questa diciamo pillola di oggi sembra semplice ma non la è merita un piccolo chiarimento allora il surplus di bilancio dello stato sia quando il le entrate sono maggiori delle uscite ovviamente sto parlando di surplus primario cioè al netto della componente finanziaria cioè al netto degli interessi viceversa sia un deficit quando le uscite sono maggiori delle entrate ora noi quello che vi sto dicendo è che per un quarto di secolo abbiamo fatto surplus primario cioè abbiamo fatto entrate maggiori delle uscite in poche parole abbiamo aumentato le tasse su famiglie soprattutto imprese e abbiamo ridotto la spesa pubblica quindi siamo stati virtuosi quanto siamo stati virtuosi più di tutti gli altri più della germania perché noi abbiamo accumulato 762 miliardi loro 627 quindi siamo i primi per virtuosismo sul podio purtroppo non sono affatto contento di questo perché perché questo essere i primi è un'arma a doppio taglio dovete sapere che se il surplus del saldo pubblico è maggiore di zero va in deficit il settore privato cioè famiglie e imprese ed è esattamente quello che è successo cioè noi abbiamo fatto invocare dai nostri politici politiche di rigore si sappia che il rigore cioè il surplus della parte pubblica dei saldi settoriali del bilancio dello stato cioè del pil portano il deficit della parte privata cioè delle famiglie e delle imprese quindi sappiate che politica di rigore significa sofferenza di famiglie e imprese e felicità delle banche speculative che continueranno sempre a finanziare lo stato perché il vero scopo degli interessi è quello di pagare le banche speculative dobbiamo toccare invece il sistema delle aste marginali buona economia umanistica peccato che nessun politico di queste cose se ne occupi malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene